Salve, sono Maurizio, sono il responsabile di Notica Felice, ci troviamo a Comezia, nel Largo Mamelli numero 14. Dopo tanti anni di esperienza ho sposato quella che è la cultura di Felice, che secondo me è una nuova ristorazione, tornare alla semplicità. Ci definiamo un po' una ristorazione 2.0, da noi è come quando un ospite viene a casa e quindi gli prepari la tavola, gli prepari tutto, il menù, e qui è la stessa cosa, è come se viene a casa di Felice. Abbiamo sposato questa cosa di Tognazzi un po' perché riconosco Felice in quello che era il modo di cucinare o il modo di creare di Ugo Tognazzi. La particolarità appunto è un personaggio felice. Come piatto abbiamo scelto l'uogo al Tognazzi un po' per Tufi e pensiamo in futuro anche di mettere la melanzana. Siamo tranquilli, si mangia con calma, senza fretta, da noi l'orologio va quasi posato insieme.